Grazie a tutti. Il Papa ci ha preso un po' di sorpresa, poi in un giorno che è anche per il Vaticano un giorno festivo, quindi abbiamo dovuto in tempo breve organizzarci per questa situazione molto importante. Come molti di voi sapevano questa mattina era indetto il concistoro ordinario pubblico per alcune cause di canonizzazione e quindi è stata stabilita la giornata della canonizzazione di alcuni nuovi Santi. In questa occasione sono convocati, per questo si chiama concistoro pubblico, i cardinali, tutti i cardinali che sono a Roma e che possono partecipare. E quindi c'era un grande numero di cardinali, chi ha potuto seguire anche un po' di immagini o ha potuto già vederle, ha visto che nella sala del concistoro c'era un gran numero di cardinali intorno al Santo Padre. E allora il Papa ha scelto questa occasione particolarmente significativa con il collegio dei cardinali riunito, almeno la parte del collegio che sta qui a Roma, per dare un annuncio particolarmente importante. Il testo dell'annuncio penso che oramai l'abbiate già avuto tutti a disposizione, il Papa lo ha letto in latino al termine della celebrazione del concistoro. Però vi abbiamo preparato, vi abbiamo dato le traduzioni in un buon numero di lingue, in modo tale che voi possiate avere una traduzione, diciamo, veramente attendibile di quello che il Santo Padre ha detto. Una dichiarazione breve, sono bastati pochissimi minuti per farla al Santo Padre, ma è stata ascoltata con grande, diciamo, attenzione e col fiato sospeso anche dai presenti, che credo che la massima parte anche dei presenti non avesse, diciamo, informazione precedente.